Ciao a tutti e benvenuti ad Uncome! Nel video di oggi ti insegneremo dei passi che puoi usare in qualsiasi coreografia di reggaeton. Siete pronti? Cominciamo con il passo numero 1, per il quale porteremo le braccia all'altezza del petto. Scendiamo in avanti e portiamo un fianco in su e l'altro fianco in su. Di nuovo! Passo numero 2. Cominceremo con la gamba destra davanti. Ruotiamo il bacino e quindi cambiamo il peso sull'altro piede. Salto e appoggio il piede. Di nuovo! Muoviamo il bacino, salto e piede sul pavimento. Per le braccia invece facciamo un disegno e mani sui fianchi. Ripetiamolo ora tutto insieme. Il terzo passo sarà gamba in avanti, spingo il fianco in su e ripeto due volte. Il movimento delle braccia sarà semplicemente aprire, chiudere, portarle in avanti, insieme e sopra la testa. Mettiamoli ora tutti insieme. Mettiamo insieme ora questi tre passi, che abbiamo appena visto, per fare una piccola coreografia che potrete usare per qualsiasi canzone di reggaeton. Vediamolo tutto insieme lentamente. Mettiamo insieme. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Speriamo che ti sia piaciuto. Facci sapere nei commenti come ti è andata. Grazie per la compagnia e alla prossima! Grazie per l'attenzione! Grazie per la visione!